Avvicinatevi alla verità della croce, avvicinatevi alla parola di Dio prima che venga la fine perché c'è un conto alla rovescia su questa umanità, questa umanità che ha trasferito le leggi di Dio questa umanità che non tiene più conto dei comandamenti di Dio questa umanità che invece di amare Dio ama il male, gli uomini amano il male ci sono uomini che amano il peccato, amano le droghe, amano i vizi, amano i piaceri della carne per questo che il mondo si sta rovinando, il mondo si sta distruggendo c'è un conto alla rovescia su questo mondo, salvati prima che sia tardi credendo in Gesù, Gesù Cristo è il figlio di Dio Alleluia, è la salvezza per i pecatori, gloria al Signore Gesù è la speranza per le nostre anime Gesù è la salvezza, apri le porte del tuo cuore al Re dei Re e il suo Santo Spirito entrerà, rigenererà il tuo cuore, cambierà la tua vita credi nel Vangelo, riconosci che Cristo è l'unica salvezza, è l'unica speranza, è la fonte della vita Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita Gesù è la via, che ci conduce al Regno del Cielo è Gesù, è Gesù, è Gesù, perché vi rivellate, vi opponete alla sua santa parola la sua parola è vita Alleluia, la parola del Signore è il pane della vita Credete nella santa parola, credete nella verità E sarete resi liberi, liberi dal orgullo, liberi dal peccato, liberi dalla confusione Liberi, veramente liberi, no è il suo nome, Signore